Il formaggio bra si produce nell'intero territorio amministrativo della provincia di Cuneo, con latte prodotto esclusivamente nella stessa provincia. Il suo nome deriva dall'omonima cittadina piemontese, capitale del Roero, collocata sul confine tra le Langhe e la pianura cuneese. Viene prodotto con latte vaccino in due tipologie, il bra tenero e il entrambe DOP. Per la produzione di bra tenero il latte viene riscaldato a 35 gradi centigradi con l'aggiunta di caglio liquido di vitello, mentre il bra duro è portato alla temperatura di 29-30 gradi centigradi in caldaie di rame. Dopo la rottura della cagliata si procede con la salatura in salamoia e la stagionatura che deve essere di almeno 45 giorni per il tipo tenero e di 180 giorni per il tipo duro. Il tipo duro con crosta consistente e di colore beige scuro è piccante e sapido, soprattutto se stagionato più di 8 mesi. Il tipo tenero invece presenta una crosta grigio chiaro e liscia, è gradevolmente profumato e con sapore meno intenso. Il bra tenero si abbina a insalate, funghi trifolati e frutta secca. Il bra duro è invece ottimo servito con insalata di carciofi o pere oppure ancora come formaggio da grattugia per insaporire pasta al forno e verdure farcite.